Musica Raccontare la pietra, eccellenza dell'artigianato in provincia di Cuneo. E' una straordinaria mostra promossa da Confartigianato Imprese Cuneo in collaborazione con l'Ordine Provinciale degli Architetti e ospitata sino al 25 settembre nei locali del Filatoio Rosso di Caraglio. Raccontare l'artigianato percorrendo la sua storia attraverso i materiali che ne caratterizzano i manufatti e il fulcro del progetto realizzato tramite l'allestimento di una serie di mostre dedicate ai singoli materiali utilizzati nel lavoro artigianale. Per il 2011 è stata scelta la pietra attraverso la quale identificare l'artigianato locale e il suo territorio d'origine partners inscindibili di un nuovo modo interpretativo dell'ambiente e delle sue peculiarità. Nella mostra la pietra diventa simbolo del primo lavoro artigianale svolto dall'uomo testimone di una ricchezza inestimabile del territorio cuneese che dalle sue cave estrae oggi oltre una quindicina di tipologie pregiate di pietre, marmi e affini. La pietra racconta le storie di uomini e di luoghi. Ecco, è stata una passione trasmessa da nostro padre, da mio padre, che ha avuto già di suo la passione per la pietra nella costruzione di muri e in un utilizzo della pietra in edilizia. E io ho avuto questo stimolo qua già da piccolo e ho cominciato con degli attrezzi di fortuna a incidere, a fare delle piccole incisioni su queste pietre nostre locali, la pietra di Langa. E poi da cosa nasce cosa, ho cominciato a frequentare dopo le medie una scuola, un istituto statale d'arte in Toscana, a Massa, per capire più che altro, avere una conoscenza sulle tecniche, sul disegno e mi è servito tantissimo riuscire a capire le proporzioni, farmi una cultura mia sulla pietra e soprattutto sul marmo, di cui lavoro spesso. La mia lavorazione è prettamente indirizzata alla lavorazione locale, quindi al marmo locale e alla pietra di Langa in particolare. Sono generalmente dei manufatti che io faccio personalizzati, generalmente su idee che il cliente ti dà, ti dà una traccia e tu devi elaborarla e proseguire. Ci sono a volte anche possibilità di fare dei lavori proprio di scultura per conto mio, però i tempi scorsi, qualche anno fa riuscivo a fare molti più lavori per conto mio, adesso fortunatamente il lavoro è quasi tutto su ordinazione, quindi io seguo sempre a contento il cliente, già a fare contento il cliente è già un ottimo risultato. La lavorazione che svolgo prettamente è di incisione, ovvero ripristino delle vecchie scritte, delle vecchie scritte dei monumenti ai caduti per esempio, o anche le scritte funebri che sono poche ma sono ancora possibile ancora farle, rifarle a mano sulle tombe vecchie, quindi operare anche su lavori fatti da artigiani di presidenza. Il mio scopo del lavoro è quello di poter dare un filone di continuità con il passato, con un occhio ovviamente al futuro, quindi anche al presente perché dobbiamo andare avanti e riuscire a capire, cercare di non perdere queste nostre tradizioni dai vecchi scalpellini agli scultori delle nostre zone che hanno fatto tanti lavori nella zona del Moregalese, Cuneese in generale e c'è stata una perdita, ho potuto notare che c'è stato un distacco generazionale, cioè le generazioni dei miei genitori, quindi dal dopoguerra hanno perso una parte di questa lavorazione manuale che era proprio la lavorazione dello scalpellino, dell'incisore, dello scultore. Una volta era individualizzata questa lavorazione, ovvero chi faceva l'incisore non faceva lo scultore, era specializzata e quindi ognuno aveva il suo ramo, si può dire. Il lavoro che faccio io adesso è di raggruppare tutte le lavorazioni anche per fare un'esperienza a mira, per farmi le ossa, io sono giovane e cerco di continuare questa tradizione qua. Il lavoro che faccio non lo svolgo da solo, ma lo svolgo assieme alla mia famiglia e la nostra è un'impresa familiare in cui operano mio padre e i miei fratelli, noi siamo tre fratelli e io lavoro con loro, lavoro spesso da solo perché la lavorazione particolare con la pietra, di scultura e incisione sono io che la svolgo, però il bello di poter anche lavorare con la propria famiglia è il fatto di sapere con chi hai modo di confrontarti, hai modo di crescere insieme anche perché poi alla fine è quello, poter sperimentare anche lavori nuovi e farlo con impegno, farlo con passione. La coltivazione di questa cava ebbe inizio negli anni 35 più o meno, inizialmente è stata scoperta da dei toscani che vennero su per lavorare, perché giù in Toscano c'è la cultura del marmo, le cave di marmo bianco, voi ben sapete ce ne sono tante, venivano su questi specialisti che con la loro attrezzatura, con il loro bagaglio, venivano su, ci hanno insegnato a lavorare anche noi perché abbiamo imparato anche da loro, venivano messi, all'inizio hanno fatto dei buchi, non era così, dei buchi nelle varie rocce, proprio anche sopra le sommità, lassù se ne vede uno di questa roccia, di questo blocco di marmo, dei pali di ferro che erano lunghi circa un metro, metri e mezzo, sopra veniva avvitata una ruota in ghisa, dentro ci passava un filo licoidale, che torno a ripetere, genera uno ogni 100 metri, magari c'era un chilometro di, la chiamavano la stesa, la famosa stesa che passava, correva dentro per raffreddare il filo quando arrivava poi nel blocco, quando arrivava nel blocco c'erano due montanti, chiamavano i potò, due montanti che venivano anche lì con la ruota in ghisa, il filo veniva passato dentro con una manovella, una parte o l'altra abbassavi e tagliavi, sopra rilasciavi l'acqua e la sabbia che portavano su da Carrara e si tagliava il blocco, per tagliare la montagna si faceva il famoso buco con la macchinetta, la chiamavano la macchinetta, aveva una ruota in acciaio così, con una corona elicoidale girava giù, quando era in fondo faceva un buco così, poi si passava il filo e si tagliava, magari tagliare una parete così ci si metteva un mese, giorno e notte, perché si lavorava giorno e notte e sabato e domenica, poi quando era tutta staccata dai tre lati, sotto, sopra e a fianco, dentro questo buco famoso che aveva fatto la famosa macchinetta, ci si infilava della polvere nero, per poterla spostare, se no non si sarebbe potuti passare dietro a mettere i montanti per tagliare, ed era un lavoro abbastanza complesso, vi garantisco, poi il tutto veniva sezionato in pezzi da 5, 6, 7, 8 metri cubi anche e veniva portato giù con la famosa strada della Lissa, la famosa strada della Lissa era un pendio lungo così, si arrivava quasi a Ceglio, perché qua non c'era la strada, si portavano giusti carichi, legando anche lì tutto con una funna in acciaio molto grossa, attaccata a dei ceppi, anche da volte, a volte anche delle piante grosse, bastavano delle piante grosse così, e sotto c'erano due famose Lissa che erano due cose in acciaio, in faggio, rivolte poi su, di traverso si mettevano i parati anche lì, in faggio, e li si insaponava col sapone che c'era una volta, per farci che si volassero meglio, addosso a questo carico si metteva anche un famoso Cric, loro lo chiamavano Martiglione in Toscana, da noi lo chiamavano Cric, era un affare di 100-120 kg, che serviva quando casomai il carico fosse scivolato fuori dalle Lissa per poterlo alzare, si metteva sotto la Cric, si rialzava il tutto, si metteva di nuovo sotto le Lissa con i parati di traverso e si proseguiva la corsa, per portare giù un carico così, ripeto, ci si metteva un giorno buono. Era un marmo molto pregiato, anche se molto delicato, perché ha tante venature, è facile che si spacchi. Allora, un'altra cosa importante era questa, per la lavorazione di questo marmo, gli specialisti venivano dalla Toscana, da Carrara in particolare, e la mano a volanza veniva presa in loco, io sono uno di questi, che però poi ha imparato il mestiere, dopo 5-6 anni che lavoravi, loro venivano sempre di meno, alla fine se la si lavorava noi questo marmo, perché come tutte le cose, quando si imparano poi si fanno anche. E qua si lavorava per tagliare il marmo, perché ci doveva essere l'acqua corrente che arrivasse sul blocco, per cui l'acqua corrente, quando non gira più ad aprile, arrivare a ottobre, poi si cessava l'attività estrativa dei blocchi e noi in inverno, gli inverni erano miti che non nevicava tanto, si scavava sopra la montagna di marmo per togliere la terra, per poi poter andare sopra con le trattature per tagliare, per cui si lavorava tutto l'inverno, la mano a volanza lavorava tutto l'inverno.